Niente bandiere sposte a mezz'asta, a Valparaíso, Santiago, Antopagasta, per Salvador Allende. Hanno paura di ricordare che un vero presidente popolare muore ma non s'arrende. Per chi è vissuto e morì con coraggio non ci si attende un omaggio. Da quelli che sono vissuti e più tardi dovranno morire da codarti. Niente uniformi né generali né nobile donne né autorità ufficiali di fianco al tuo sudario. Per chi gli ha ucciso non conta niente la morte di un compagno presidente morto da proletario. I traditori si sono già forti d'esser più morti dei morti. Anche da divi appostoro è concesso d'esser carogni è lo stesso. Se nessun cannone ti ha tributato sparando a salve l'ultimo comiato andando al cimitero. Il sonno spreca inutilmente le munizioni per un presidente morto da guerrigliero. Ogni suo colpo lo deve servare per chi ti vuol vendicare. Chi c'ha la forza ma non la ragione si affida solo al cannone. Alle a mille si sono mosse in tutto il mondo le bandiere rosse per te compagno agli ente. Si sono mosse per ricordare che solo un presidente popolare muore ma non si arrende. E' stato il popolo a darti in omaggio questo tuo grande coraggio. Questo coraggio che tu ora da morto rende al tuo popolo il sordo. Chi ti ha voluto prenderli onori sono milioni di lavoratori di rivoluzionari. Perché è un esempio ormai leggendario che un presidente vuoi a proletario tra gli altri proletari. Ma dietro ad un proletario mattato c'è tutto il proletariato. C'è tutto il proletariato che aspetta di compier la sua vendetta. Sono stati i primi che hanno indicato come seguire l'esempio che tu hai dato compagno guerrigliero. Ora la porta ce l'ha un traditore ma il socialismo non muore. Esso è ben vivo e continua a lottare con unità popolare.